Con la riforma dei porti voluta dal Governo centrale si permetterà una riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della gestione delle autorità portuali. Di questo se ne è parlato nel convegno organizzato da Confartigianato La Spezia alla presenza del consigliere del ministro De Rio per la portualità e la logistica Merlo. Una semplificazione del sistema con le autorità portuali del sistema, un concetto dal punto di vista procedurale di forte semplificazione sportello unico, doganale e sportello unico delle procedure amministrative, una grande attenzione alle politiche ambientali con le linee guida che daranno indicazioni molto puntuali alle autorità portuali del sistema per il risparmio energetico e per l'uso delle energie alternative e poi una parte significativa rispetto alle procedure organizzative con la riduzione anche degli organismi e l'abolizione dei comitati portuali si pone come dire uno strumento più menageriale, più pubblico dal punto di vista della direzione ma molto più snelle e operativo per le risposte dei privati. I 57 porti di rilevanza nazionale verranno quindi riorganizzati in 15 nuove autorità di sistema portuale. Alla domanda se ci sia Maretta nell'aggregazione tra Massa Carrara e la Spezia, Mello risponde così. No Maretta, ci sono state delle istanze e saranno valutate dal ministro nelle prossime settimane. Da parte di Confartigianato si auspica un dialogo costruttivo per la riuscita positiva della riforma. Noi siamo in campo per le nostre imprese che rappresentiamo all'interno dell'attività portuale. Ci auguriamo che avremo sempre la nostra rappresentanza all'interno delle decisioni e della nuova costituzione di queste autorità.